ciao a tutti eccomi con un video dedicato a frozen però non è frozen 2 ma è proprio il primo film di frozen ho qui un bellissimo carrion porta gioie con anna elsa e olaf allora qua si chiama olaf frozen adventure musical gelovere box e diciamo la musica di questo carrion e la canzone when we're together dove possiamo ascoltare un piccolo pezzettino la scatola è molto bella sembra tutta fatta di ghiaccio e dietro fa vedere il carrion e poi fa vedere anche i disegni dei personaggi e qui ci sono anche le bambole di anna elsa adesso lo apriamo perché ovviamente io lo userò metterò comunque nella scatolina gli oggettini questo comunque un porta gioie pieno di scotch caspita ce ne vuole per farlo uscire è proprio incollato si è incollato dentro infatti ecco qui mamma era tutto incollato dentro le cose sono sempre difficili allora qua ci stanno questo tipo di chiavette ecco qua si deve svitare questi chiavetti sotto fatto vediamo se altra cosa da svitare la cosa più impossibile anzi no la cosa più impossibile riuscire a partenare sul ghiaccio allora qua c'è anche un anellino che adesso vado a tagliare eccolo questo poi dopo lo vediamo altrimenti non posso se non tolgo l'anello non posso staccare il portaggio dell'anello da qua e infatti ecco qua come pesante eccolo qui allora qua c'è un elastico l'ho messo apposta per non far aprire il cassettino ovviamente togliamo che nel cassettino serve e infatti come si è tolto l'elastico si è aperto il cassettino allora questo è il cassettino non si sfila quindi eccolo qua allora è tutto bianco e celeste ovviamente come se stessero sul ghiaccio a nelsa poi abbiamo Olaf e loro stanno prendendo secondo me gli adobbi di Natale qualcosa dalla scatola allora andiamo è tutto bianco e eccolo qua abbiamo sentito la canzone al completo perché ci sono tre tassi on off e tra i miei e tra i miei era solo per la prova allora vediamo che anna a questo vestito di no tutto celeste e porta il tupo il tupo e poi in testa come come non sociale tipo di linee ecco poi essa vabbè c'è suo vestito con la mantella come piace a me con la mantella che i capelli raccolti nella treccia e poi abbiamo il bellissimo la simpaticissimo pazzo di neve creato da elsa che bello molto bello questo carillon mi piace tanto allora vediamo un attimo l'anellino l'anellino tipo fiocchetto di neve pieno di scotch pieno di elastici di tutto di più eccolo qua eccolo qua l'anellino e questo è il carillon di frozen frozen però ho detto anche prima il nome Olaf adventure così viene definito guardate la scatola dietro com'era bella con Olaf e tutto il paesaggio in nevato bellissimo che bello se loro stanno sulla neve ok io spero che sia il video che il carillon vi sia piaciuto vi mando un bacione e alla prossima ciao 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 ciao